Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e in questo bellissimo video di UGONDENT 3 avevo provato a fare altri video su un altro gioco però tutte le volte è andata persa la registrazione quindi adesso giochiamo a Rider perché mi sto incavolando Viva Rider No non voglio Non voglio Siamo morti per la mia volta Non so se chiama la mia volta così Adesso abbassare il mio metri ancora E' la scorsa volta sono la migliore E' il risalto che era tutto Scusso, però non mi hanno freddo niente Scusso, ma non mi hanno freddo niente Non voglio rivivere i gradi Scusso, ma non mi hanno freddo niente E non so niente perché Quando tipo faccio un video per esempio testo Dopo l'ho arrivato a vedere se mi dava tutto bene Dico, ma perché ho fatto quella cosa e non la favo? Perché no? Perché sarei un figlio bravo Più bravo di quelle persone Però non mi applica Tipo, ora ha il suo figlio bravo Ma non si applica Perché Grazie per avermi fatto tutte le missioni Però no Dammi 200 Perfetto Ciao Sидanaba Come, mi ha aullar Come, mi ha. Come, cling S outro S左 Scriviti me nei commenti, non so se adesso si senti. Ma comunque, scriviti me nei commenti, non è stupido, ma come meglio è altro, perché se non... Non so farò fare... Ma com'è alti sono salata, non è solo, però... E tipo tutto, che tipo di video vi piaccia, che potrei fare altri tipi in genere. Anche qua mi sono salata. Perfetto. E quindi... E volevo dirvi solo una cosa. Andate al canale di Ginny Channel a scrivere hashtag Agur vuole fare pace con te, perché lei... Non voglio. Cioè, voglio fare pace con me. Ma lei non vuole. Quindi tutti i hashtag Agur vuole fare pace con te. Agur meno si inciderà un giorno. Anche se non vorrete... Se non si blocca, se non va bene, sarebbe bene. Però... Tanto... Oh, scusate un attimo. Ah, ok, bene. Perfetto. Ok, continuiamo. Ho messo la riproduzione delle auto automatiche, quindi non so io a sceglierla. Perfetto, una volta cambiare auto, mi rompevo e mi rompo anche quando muoio, soprattutto. Non voglio scaricare questo gioco, grazie. Ehm, io voglio diventare una super più brava di quella persona, perché a me è stato piaciuto fare un po', però... Ehm, adesso, faccio vedere un mondo, sì, la Ypsilon... Quindi, ma... Scusate... Scusate... Perché non è la sua mente, ma... Lo voglio! Che fanno scritto sull'aria... Ehm... Ehm, Uiiiiiiiiiiiiiii C'è lo scritto perché... ...che non aderisce bene. Ehm, anche quando è un piccolo piccolo, sai che... Non so come fa... Vedete queste le botte che già aderiscono meglio... ora un gioco adesso se non fosse capito ok 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 e niente ok 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 perfetto io in realtà ho un modo per far pace con te però almeno voi vanno a scrivere una strada auguro vuol fare pace con te se mi riguardo vi lascio il link del suo canale in descrizione e magari fare un tutorial sicuramente mettere il link ora adesso chiudo nel canale chiudo il video quindi ciao ciao addio